Alexis Tsipras si prepara a governare la Grecia per il suo secondo mandato, dopo la chiara vittoria ottenuta alle elezioni di domenica. Ha già incontrato Panos Kamenos, il leader degli indipendenti di destra che gli rinnovano l'appoggio, e in serata incontrerà il Presidente della Repubblica per l'incarico formale e il giuramento. Abbiamo condotto una dura e complessa battaglia. Oggi mi rendo conto di aver avuto ragione, perché gli elettori ellenici mi hanno affidato un mandato chiaro, continuare la battaglia all'interno e all'esterno del Paese e rilanciare l'orgoglio nazionale. Con il 35% dei voti, circa 7 punti percentuali di distacco rispetto ai conservatori di Nea Democratia, Tsipras assicura che l'esecutivo governerà per un intero mandato di 4 anni.